Ciao, io sono Mika. Adesso il mio tour mondiale è finito. Sono passati quasi due anni, sempre in mezzo a tantissima gente. È stato veramente bellissimo. Ma a volte uno sente bisogno di stare un po' più da solo. Per cui ho deciso di fare qualcosa di speciale, di diverso. Questo autunno su Rai 2 ci sarà ora uno show, piccolo piccolo, molto intimo. Ci sarò io e mi sa che arriveranno anche un po' di amici. Ci fate un po' di spazio? Arriviamo su Rai 2, ci vediamo fra poco. È merito. 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 Grazie a tutti.